Musica Buongiorno a voi tutti e bentornati a TG2 Costume e Società. Quando si dice che una vacanza nasce sotto una buona stella, la Romagna offre sistemazioni che vanno dai 25 ai 1000 euro al giorno, dagli alberghi a 6 stelle ai campeggi con tenda compresa, addirittura arredata. Alla fine è solo una questione di prospettiva, di punti di vista, per il resto il sole, l'aria e il mare sono uguali per tutti. 10, 100, 1000 euro possono bastare per passare una giornata in riviera, vacanza a 5 stelle da sceicchi o quasi, oppure in campeggio senza però troppi sacrifici. Le spa, infatti, si trovano al grand hotel come al camping. Qui siamo a Rimini, da sempre patria del divertimento, dove in mezzo a centinaia di strutture ricettive è da poco nato un albergo dedicato a chi si vuole coccolare davvero. In tutto, 54 suite, da 30 a 70 metri quadrati, tutte vista mare, dove il rapporto con l'esterno, con la luce e la sua energia, si armonizza con l'intimità delle quattro mura, senza mai tradire gli ospiti della suite. Un luogo dedicato a relax in due modalità, lovers of business, un posto particolare dove il paesaggio è nuovo e informale, in tema di ricevimento, visto che manca la reception e la hall diventa agora, luogo di aggregazione degli ospiti. Questa è la suite Penthouse, dove ogni singolo pezzo, come del resto in tutto l'albergo, è appositamente creato in via esclusiva per ogni suite. TV con cornici argento che richiamano gli iPod, grandi vasche da bagno dove rilassarsi anche con la cromoterapia, musica in diffusione, ambienti, insomma, dove tutti i sensi vengono attivati, compreso l'olfatto con tre diverse fragranze diffuse nell'ambiente a seconda delle preferenze degli ospiti. I clienti possono usare, compreso nel prezzo delle suite, anche il centro benessere, posizionato nel luogo più prezioso dello stabile, l'ultimo piano con vista mozzafiara, non compreso nel prezzo, ma certamente da provare, il massaggio Ratna-Biagan, in cui la forza dei cristalli di Quarzo Iolino, del Rubino e di tanti altri, riequilibrano, anche grazie alle mani di esperti massaggiatori, il nostro sistema energetico, regalandoci serenità e armonia, distensione muscolare e del sistema nervoso centrale. Un luogo magico, fondamentalmente, quindi in Rimini, dove un po' tutto è possibile, c'è questa oasi che abbiamo ricreato, dal punto di vista, come dico, sia della struttura innovativa che dei nostri servizi e dove veramente le persone ritrovano una ospitalità innovativa e molto molto particolare, un'esperienza praticamente.